Buonasera, benvenute a tutte e a tutti, grazie per essere qui e per aver partecipato a questo incontro. Io mi presento brevemente, per chi non mi conoscesse, sono Oriana Mascali e lavoro per l'area lingua di Rizzoli Education. Oggi modererò questo incontro che ha per protagonista il professor Alessandro Bencivenni, che forse alcuni di voi conosceranno come il prof. digitale, eccolo qui. Buonasera, professore Bencivenni. Buonasera Oriana, grazie mille. Bene, allora, prima di passarle appunto la parola, qualche informazione tecnica brevissima proprio sull'incontro di oggi. Staremo insieme per circa un'ora, nel corso della quale voi avrete la possibilità di formulare le vostre domande, ovviamente inerenti al tema, e inviarcele attraverso il codice che vedete in sovraimpressione in questo momento. Ci ritaglieremo qualche minuto alla fine della presentazione del professore Bencivenni per cercare di rispondere al maggior numero di domande possibile, compatibilmente ovviamente con il tempo che abbiamo a disposizione, e quindi appunto dichiarire i vostri eventuali dubbi. A questo punto io mi taccio, passo subito la parola al professore Bencivenni e auguro a tutti voi buon proseguimento e buon ascolto. Grazie. Grazie ancora Oriana, è sempre un piacere far parte dei webinar organizzati da Rizzoli Education. Oggi parleremo di ludificazione, quindi parleremo di gamification, quindi di portare, proveremo a portare un po' di elementi ludici all'interno delle nostre lezioni di lingua e proveremo a fare qualche esempio, quindi proveremo a inserire dei quiz, degli elementi di gioco anche all'interno di lezioni per esempio di letteratura o di civiltà. Chiederei gentilmente le mie slide, grazie mille, e quindi che cosa si intende per ludificazione? Beh, l'abbiamo detto, ci sono questi meccanismi, queste leve che prendiamo in prestito dal gioco e che appunto servono a motivare i nostri studenti, servono a mantenerli agganciati durante una lezione, sia essa in presenza, ma anche come in questa situazione particolare a distanza, e ovviamente come vedete nella slide non si tratta tanto di introdurre un gioco in sé, in sé per sé, ma di sfruttare appunto i meccanismi del gioco per appunto poter fare lezione. Il primo strumento che molti di voi già conosceranno è proprio CAUT. CAUT piattaforma, ok, di apprendimento online, che tra le altre cose, se possiamo far vedere la finestra appunto del mio browser, grazie Luca, qua abbiamo Insta France dove all'interno nella sezione lessico, se io scorro, trovo il logo di CAUT e cliccando su questo logo trovo già un'attività pronta, quindi un gioco sull'essico che posso lanciare anche praticamente senza collegarmi e quindi neanche senza fare il login del appunto con l'applicazione. Classic mode è la modalità, mettiamo in francese, va, che è possibile farlo, quindi joueur contro joueur. I giocatori appunto si affrontano, mode classic, parte il caricamento e chiediamo ai nostri ragazzi di entrare fotografando il QR code che può essere anche ingrandito e questo è molto utile soprattutto se i vostri ragazzi stanno giocando, sfruttando magari lo smartphone personale che hanno portato a scuola oppure semplicemente andando su CAUT.it e entrare con il pin che vediamo che vediamo qua. Ovviamente qua avete la possibilità di vedere i giocatori che appunto stanno entrando all'interno del gioco e poi DeMarie ci consente di far partire il gioco dove appariranno le domande e appunto noi potremo andare avanti con con i nostri studenti mostrando una domanda alla volta e gli studenti potranno vedere le opzioni per rispondere sia sul proprio dispositivo e sia sulla LIM. Ma vi voglio dare subito una alternativa a CAUT, quindi se CAUT è per voi interessante, funzionale e vedete che ha delle ricadute positive all'interno delle vostre lezioni. Allora vi voglio, Natali grazie per esserti collegata, vi voglio dare, intanto se volete possiamo far partire giusto questo CAUT per far vedere, ora c'è solamente una collega che si è collegata, dopo voglio che vi collegate tutti però alla prossima piattaforma che vi farò vedere, EPS, segni fi, educazione fisica e sportiva, ok, è qua, quindi chi è collegato premerà la risposta, io poi vedrò apparire la risposta appunto e anche come vedete la risposta corretta o errata all'interno del del mio schermo e poi andando avanti è possibile vedere il punteggio fatto eccetera eccetera. Quindi questo è diciamo il funzionamento di base di alcune delle piattaforme. Come vi dicevo, se questa cosa qua trovate che funzioni e ce l'avete già all'interno di un volume come questa Fonsa, potrebbe essere interessante andare a creare una lezione direttamente all'interno di una piattaforma molto simile a CAUT. Questa piattaforma è Quisis, ne ho parlato anche all'interno di uno dei miei video, ma vediamo proprio come funziona questa piattaforma. È una piattaforma, anche in questo caso l'iscrizione è gratuita, non costa niente, quindi mi basta andare, in questo caso la piattaforma è in inglese, ma dentro vedrete che troveremo anche diverso materiale pronto in francese. Andiamo su sign up. Possiamo entrare con il nostro, dopo aver messo la spunta qua sotto, con il nostro account Google oppure Microsoft di scuola, quindi non entriamo con il nostro personale, ma entriamo con l'account della scuola. Andiamo a selezionare il nostro Andrea che appunto farà finta di essere l'insegnante di francese del giorno e quindi dove lavori a scuola, chi sei teacher, ok? E qua potete dire che appunto insegnate lingue straniere e potete mettere appunto l'equivalente di quelle che sono le vostre classi in lingua inglese e poi premete done. Questo non è fondamentale, ma comunque è un passaggio che ci viene richiesto. Benissimo. Abbiamo creato in questa maniera, in tre passaggi praticamente, un account basic. Ok, perfetto. Andando qua a sinistra sull'account, scusatemi, sul tasto create, siamo in grado, come vedete, di creare un quiz oppure una nuova lezione. Il quiz è praticamente l'equivalente di quello che avete visto su CAUT. Faccio una domanda, inserisco delle opzioni e grazie allo smartphone i miei studenti sono in grado di rispondere. La lezione è qualcosa che va a integrare, no? Questo elemento di ludificazione all'interno appunto di una serie di contenuti multimediali, come ad esempio delle slide. Quindi io vado a cliccare su New Lesson. Qua diamo un titolo alla nostra lezione e per me sarà la litterature. Ok, benissimo. Che cosa insegno? Va bene, questo lo mettiamo come Word Languages. Va benissimo. Clicchiamo su Next. Ok, ci viene chiesto di selezionare un tema, un tema che appunto accompagnerà la nostra esperienza e soprattutto l'esperienza degli studenti nel progredire all'interno della nostra lezione. Scegliete ovviamente il tema che più vi piace. A me per esempio piace questo, anzi questo qui giallo. Ok, e premo su Next. Non è proprio fondamentale, ok, questa cosa del tema, però insomma scegliete quello che più vi piace. Clicco su Close. Benissimo. Qua vedete abbiamo la possibilità di creare delle slide direttamente all'interno del nostro Quisis, va bene? Ma io ho delle slide già pronte. Molti di noi hanno delle slide già pronte su argomenti come la grammatica, la letteratura, oppure la civiltà. E quindi io vado a cliccare qua giù in basso su Import. Import mi permette di caricare un PDF, andare su Google Slides e di fatto ci fa vedere come fare a scaricare, vedete il PDF anche da Google Slides oppure un PowerPoint, stesso discorso. In buona sostanza vi basterà caricare il PDF delle vostre slide e se è su slide, su Google Presentazioni, oppure se è su PowerPoint, basterà creare un PDF con quella presentazione. Io qua ho una presentazione che vado a scaricare dal mio Google Presentazioni, la sto scaricando in questo momento mentre vi parlo, e la vado a caricare all'interno di Quisis. e come vedete, in maniera liscia, veloce e senza problemi, le mie slide vengono importate così come sono come pagine PDF all'interno della mia presentazione. Clicco su Import e quindi sto risfruttando qualcosa che ho già. Non ho più bisogno di questa copertina perché ho già la copertina di fatto, insomma, della mia presentazione, quindi scegliete cosa volete togliere, ok? Basterà premere il tasto del cestino per cestinare appunto la slide che non serve, ma cancelliamo questa arancione. E come vedete, io ho delle brevi slide, sette slide, va bene? che possono essere usate per fare lezione, possono anche essere usate, se volete, per fare un ripasso, magari. La cosa interessante qua, qual è? È il fatto che io possa inserire all'interno di queste slide, scusatemi, tra una slide e l'altra, io vado a inserire delle attività interattive, dei quiz. come quelli che mi avete visto usare prima su CAUTO. E ci sono delle modalità qua che, ad esempio, su CAUTO non sono presenti, che secondo me vi permettono di avere un pacchetto, ok, completo, usando anche queste due applicazioni, riuscendo veramente a coprire tutta una serie di attività che sono, secondo me, interessanti per noi insegnanti di lingua. Vado su Add New Slide per dire, ok, cosa vuoi, cosa vuoi inserire? Vuoi mettere una slide? Vuoi mettere una slide con del testo, del testo e degli elementi multimediali? Oppure vuoi linkare una pagina? No. Vado a selezionare un tipo di domanda. Quindi io qua vado a cliccare per primo su Multiple Choice. E come vedete, l'impostazione è molto simile a quella che avete visto prima su CAUTO. Quindi io qua vado a inserire la mia prima domanda. La mia prima domanda potrebbe riguardare, appunto, qual è il tema, io ce l'ho già pronta, le domande le vado ad incollare, qual è il tema alla base della produzione poetica che nasce, appunto, nel sud della Francia. Qua posso mettere il testo, ovviamente, bianco. Ok. E poi qui sotto comincio a inserire le mie risposte. Quindi, ad esempio, Amour, Courage, Cour, e Un Po. Ok. Le Cuba. Come vedete, le opzioni cominciano a lampeggiare. La piattaforma ci ricorda che dobbiamo selezionare una risposta, una risposta corretta. Quindi, se la mia risposta corretta è ovviamente la MOOC, vado a selezionare questa, questa opzione. Benissimo. E vedete, nella colonna di sinistra, si capisce bene che dopo questa slide ci sarà questa domanda. Altra cosa. Posso, ovviamente, inserire più domande. Ok. Quindi, se nella slide successiva, appunto, ho l'introduzione della Languedoc, vado a fare una domanda su questo. Add new slide. Multiple choice. Andiamo a incollare qua la nostra, la nostra domanda. E qua mettiamo le nostre opzioni. Quindi, per fare più veloce, vado a incollare le domande che mi sono già, le opzioni che mi sono già preparato. Quindi, questo vi permette anche, in maniera, come vedete, abbastanza veloce, se avevate un compito, ok, un test veloce che è su un file testuale. Insomma, un copia e incolla si fa in maniera, in maniera piuttosto, piuttosto rapida, ok? E qua ce lo scriviamo a mano. Ok. Anche qua mettiamo le consegne, bene. Qua sotto, come vedete, io ho la possibilità di decidere quanto tempo venga dedicato a quella domanda. Una delle caratteristiche di queste piattaforme è proprio quella di stabilire quanto tempo ci sia per ogni domanda, perché uno degli elementi che piace anche ai ragazzi è il fatto che ci sia il tempo che corre, ok? Quindi, qua decidete voi se 30 secondi o anche 20 secondi siano sufficienti. Posso anche aggiungere dei topic, quindi alla fine posso aggregare, in un certo senso, le domande per argomenti, ma questo non è, direi, fondamentale. Nel mio caso non c'è più di una risposta corretta, ma se ci fosse, dovrei selezionare questo tasto, ovvero, seleziona se c'è più di una risposta corretta. Questo, come vedete, fa diventare da tonde a quadrate i vari simboli, ok? Su cui poi dovranno effettivamente cliccare i ragazzi. Questa casella di controllo si chiama così. Quando si passa a più di una risposta corretta, come viene detto qui nell'informativa, i punti vengono attribuiti solo ed esclusivamente se vengono azzeccate, tra virgolette, tutte le opzioni. Quindi se vengono selezionate tutte le opzioni corrette e solo le opzioni corrette. Quindi diventa un po' più, se volete, complicato. Ovviamente posso anche aggiungere una opzione ulteriore, quindi passare da 4 a 5 opzioni, non di più, se appunto ne ho bisogno. Le opzioni possono ovviamente essere cancellate e come vedete all'interno delle opzioni si possono anche inserire delle immagini, però insomma rimaniamo sul testuale. Quindi ho inserito questa cosa, poi qua sotto ho il, vediamo un po', facciamo un'altra domanda di seguito a questa. Quindi anche per, se volete intervallare tra la spiegazione e comunque l'interazione con i ragazzi, potete anche inserire più di una domanda dopo una slide, ed è il mio caso. Quindi vado di nuovo a inserire in multiple choice e gli chiedo appunto che cosa significhi questo verbo, il verbo troubar. Lo mettiamo bianco, benissimo, e gli chiediamo appunto che cosa significhi. Trouve des poètes, forse non è l'opzione corretta. Composé des verres. Composé pour le roi. Poi, trouvez un grand sonneur. Il consiglio che vi do, non tanto per provare a ingannare i ragazzi, ma per testare anche la loro attenzione nei confronti di quella che è la lezione che sta andando avanti, inserite nelle opzioni alcune delle parole che sono presenti all'interno delle slide, delle parole che comunque userete, che quindi magari sentiranno, ma che appunto, come in questo caso, non sono l'opzione corretta. potete spostare, vedete, le varie domande all'interno della vostra presentazione, quindi, e sinceramente è molto comodo tutto ciò. Andiamo avanti, abbiamo altre domande, vi volevo far vedere una cosa interessante, avrei anche altre domande, ma ho il timore di non poter fare in tempo. vi faccio vedere una nuova modalità, la modalità draw. La modalità draw consente ai partecipanti di disegnare, come su una lavagna, direttamente sul dispositivo che hanno lo smartphone, il tablet, eccetera, eccetera, anche con il mouse, volendo, possono fare, permette di utilizzare appunto il disegno. Nel mio caso, io voglio fare una domanda di questo tipo. collegate la concezione dell'amore alle sue caratteristiche corrette. Io qua, su Canva, ho realizzato una semplicissima immagine, che ora vado a scaricare. Quindi, un'immagine molto, molto semplice, ok? In cui ho messo, appunto, la concezione dell'amore e poi delle caratteristiche. Quello che chiedo ai ragazzi, e che poi chiederò di fare a voi, è proprio questa operazione. Cioè, di andare a disegnare con il mouse, con il dito, quello che avete disponibile, disegnare delle frecce che colleghino appunto questo, la concezione dell'amore, con le sue caratteristiche corrette. E vedrete che sarà interessante. Bene, questa è una nuova slide. Ovviamente, questa cosa qua, la spostiamo qua sotto. Ok, dopo appunto che io gli ho spiegato qual è questa concezione dell'amore, e poi vado a chiudere con una domanda, anche questa molto utile per noi insegnanti di lingua, che ha a che fare con la fama e me. Vediamo un po'. Eccola qua. Vado su Add New Slide e Fill in Blanks. Quindi, vado a inserire qua una domanda, dove avete visto io inserisco uno spazio vuoto, e voglio che i miei studenti scrivano proprio quella parola lì. Quindi, non è semplicemente il clic sull'opzione corretta, ma è possibile anche scrivere. E guardate, questa cosa qua è molto utile, perché non c'è bisogno di dire ai ragazzi, scrivete tutto maiuscolo, scrivete tutto minuscolo, come può succedere con Google Moduli. Questa cosa qua è veramente molto utile, sia che scrivano noblesse N maiuscola e poi il resto minuscolo, tutto maiuscolo, tutto minuscolo, non importa. L'importante è che scrivano noblesse in maniera corretta. Un minuto forse è un po' troppo, mettiamo 30 secondi, bene, e infine possiamo ovviamente chiedere ai nostri ragazzi di inserire con la domanda tipologia open-ended, possiamo chiedere di inserire una risposta, questa magari può richiedere appunto tre minuti, ok, in cui ci danno il perché appunto le plaisir sexuelle è falsa mona. Quindi, avete visto che abbiamo inserito una domanda risposta aperta, una domanda con il vuoto, quindi la possibilità di inserire un una parola o anche più parole, io vi consiglio comunque di usare sempre magari su una parola chiave la parte in cui si può disegnare e poi le varie domande a scelta mutica. A questo punto la nostra lezione la andiamo a salvare con il tasto save, bene, qua nella lingua ovviamente andiamo a cercare il francese perché il contenuto della nostra della nostra lezione è francese, qua mettiamo appunto l'iterature quasi, grades siamo obbligati a metterli, quindi insomma se volete ora mi metto professional development possiamo decidere se sia pubblico oppure privato mettiamolo privato e ora clicco su save bene, la mia lezione è pronta dove la ritroverò? La ritroverò all'interno quando mi ricollegherò magari la mattina dopo a scuola la ritroverò all'interno di my library ok? Quindi qua troverete tutte le vostre lezioni tutti i vostri quiz per lanciare la lezione basta andare su start live lesson che vedete qua ok? E a questo punto avete questi queste impostazioni le impostazioni sono abbastanza semplici nel senso che potete lasciare tranquillamente quello che vedete qui di default e poi clicchiamo su present a questo punto viene lanciata la mia lezione che cosa chiedo ai miei studenti e in questo caso ora lo chiedo a voi vi chiedo di andare sul sito joinmyquiz.com scritto tutto attaccato qui sembra che ci siano degli spazi ma di fatto non ci sono ed inserire questo codice inserite il vostro nome di battesimo quindi insomma o anche un nome di fantasia se volete e appunto potete entrare all'interno di questo mio quiz altra cosa interessante qua avete la possibilità di share via vedete condividere questo quiz direttamente tramite link io quando ho i ragazzi a casa chi è in presenza lo vede sulla lim appunto entra con il joinmyquiz per fare veloce all'interno della appunto della chat magari di meet io inserisco il link i ragazzi cliccano lì e si ritrovano già sul sul nostro sul nostro quiz vi dico che io sto usando quizzes ormai da qualche settimana i ragazzi mi chiedono di continuo di usare quizzes piace piace tantissimo alla fine della lezione è qualcosa che piace tanto in questa maniera qua è utile perché anche in un contesto di didattica comunque a distanza chi è a casa può partecipare poi può rispondere alle domande e noi vediamo in in diretta appunto che cosa sta succedendo iniziamo perché non abbiamo tantissimo tempo mi scuseranno quelli che rimangono fuori ok 3 2 1 gli ultimi arriviamo a 45 e via ok benissimo vedete che ci sono le slide quindi io come per per le slide sono in grado di premere il tasto avanti e arriva appunto la slide sulle corti quindi una volta che ho finito appunto di spiegare questa prima 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 parte prima slide parte il quiz e ognuno di voi delle 55 persone che sono all'interno vedranno arrivare le opzioni io le posso richiamare da questo tasto full question view quindi le posso riguardare insieme a voi e le posso anche rileggere insieme alla classe una volta che tutti hanno risposto il timer sia a zero perché non importa stare ad aspettare appunto se tutti hanno risposto altrimenti si arriva alla fine del timer time's up ok è finito il tempo viene mostrata la leaderboard quindi c'è questo elemento di competizione che ragazzi anche questo che ve lo dico a fare piace tantissimo io sono in grado anche qua di vedere subito l'andamento della della mia appunto della mia del mio quiz e andare a dire attenzione non sono le troubadours quindi ma l'amore quindi questo è interessante next slide andiamo avanti posso appunto spiegare questa questa nuova questa nuova slide andiamo avanti nuova domanda quindi vi faccio faccio vedere molto velocemente le varie opzioni quindi anche qua abbiamo chart view è per vedere in diretta come sta rispondendo la classe questo di solito non lo faccio mai vedere perché insomma dà una se volete anche un'indicazione alla classe che guarda magari la lim di come stanno rispondendo gli altri e invece loro non sanno cosa stanno rispondendo gli altri finisce il tempo automaticamente arriva la la leaderboard e Jess bravissima ovviamente viene premiato la risposta corretta ma anche il tempo impiegato nel darla nuova domanda prima di passare all'argomento successivo e appunto qua si può rispondere andare a rileggere insieme nella full question view le varie le varie opzioni e appunto chiedere ai ragazzi qual è l'opzione corretta avete sempre la possibilità di disabilitare il timer attraverso il tasto che vedete qua avete sempre la possibilità di terminare la domanda e di passare alla alla domanda successiva come vedete alcuni di voi si sono collegati dopo che io avevo lanciato il quiz e questo è possibile quindi anche se qualcuno dovesse scollegarsi ricollegarsi più tardi eccetera eccetera non rimane tagliato fuori e questo è positivissimo per noi ma può sempre intervenire benissimo next ovviamente le trover ok la morto bene questa è la nostra domanda dove io vi chiedo di tracciare appunto la andiamo sul response view anzi su ok eccolo qua benissimo vedete che via via che vengono collegate io vedo questa è la praticamente è la somma di tutte quante le vostre risposte però io qua scorrendo vedo per esempio domenico che cosa ha scelto marina che cosa ha scelto ok quindi ovviamente questa non è autocorrettiva va da sé però questo monica ha scritto yay non è autocorrettiva ma comunque per un attività se volete interattiva va va comunque bene quindi basta poi cliccare sul singolo sul singolo studente per vedere che cosa ha fatto e poter commentare insieme a lui questa questa sua risposta quindi questo è sotto response view vedete piano piano apparire le varie le varie su zoom view vedete praticamente avete la possibilità di entrare dentro quelle che sono le risposte dei vari dei vari studenti andiamo avanti finiamo questa domanda perché voglio far vedere anche quella quella successiva quindi abbiamo la slide successiva e qua appunto siamo siamo in grado di far vedere o nascondere le varie le varie risposte dei ragazzi andiamo avanti e qua abbiamo il nostro fill in blanks quindi andiamo a riempire con la parola corretta e anche qua su response view io vedo le risposte di tutti quanti ok questo è autocorrettivo ovviamente questo è autocorrettivo perché mi consente inserire una parola sola la piattaforma sa qual è la parola corretta e vi dà il punteggio in base appunto alla correttezza e alla velocità anche qua chart view per vedere un po' la possibilità per vedere in quanti hanno risposto correttamente o incorrettamente e poi alla fine anche questa non autocorrettiva ma comunque rimane nel report la possibilità di inserire una risposta una risposta aperta ovviamente sotto response view poi vedete che piano piano appariranno le varie le varie le varie risposte ok quindi sotto response view avete le varie risposte dei ragazzi invece sui partecipanti vedete chi ha già risposto o chi appunto ancora deve andare avanti e finire questa domanda arriviamo alla fine per farvi vedere dove trovo poi tutti i dati e anche questo è molto interessante dove trovo i vari dati quindi qua dopo decidere che queste cose qua vadano bene oppure male next slide benissimo arriviamo alla fine yes fine della lezione grazie e se io vado sui records qua ho la possibilità di vedere appunto chi ha fatto molto bene posso avere una overview di quelle che sono le varie le varie domande chi ha risposto ok quindi quanto tempo ha messo anche nel rispondere interessante o chi non ha risposto per niente quindi mancante nella nella nei report c'è poi la possibilità per i quiz in stile cauto in cui si va avanti i ragazzi possono andare avanti anche da soli cioè il quiz va in automatico avanti sul loro dispositivo e loro rispondono finché non arrivano alla fine e ci sarà chi arriverà per primo alla fine chi arriverà in una seconda battuta alla fine ecco lì poi c'è la possibilità di vedere su le domande qua far venire fuori le domande che escono per livello di accuratezza quindi quali sono le domande che hanno messo più in crisi i nostri ragazzi e quindi magari ripartire eventualmente da quelle quindi questo è una funzionalità molto secondo me molto utile quindi quizzes per creare delle lezioni che contengano all'interno degli elementi interattivi come le domande a scelta multipla ma anche la possibilità di disegnare e soprattutto la possibilità di inserire e digitare parole mancanti all'interno delle frasi quindi è possibile Luca riavere la presentazione grazie quindi abbiamo detto caout siamo partiti da da quello quizzes se volete ha delle caratteristiche anche per gli account gratuiti che vanno a integrare no questo questo mondo dei dei quiz online andiamo a parlare di geniali per capire come possano funzionare le escape room perché uno dei trend se volete più diciamo più attuali ok è quello dell'escape room non so se vi sia mai capitato di entrare fisicamente in una escape room quindi il concetto è quello del siamo chiusi in una stanza dobbiamo trovare una soluzione e vari indizi per uscire da questa stanza e questo è stato riportato in termini didattici con appunto le escape room e dopo aver visto come funzioni i geniali e faremo una panoramica veramente di base perché geniali è uno strumento se volete anche relativamente complesso ma per iniziare a usarlo non ci vuole veramente tantissimo vi farò vedere la piattaforma escape che è una piattaforma francese dove all'interno c'è veramente tantissime cose da poter riutilizzare subito possiamo tornare sullo schermo una cosa che mi sono dimenticato di dirvi di quizzes quando voi siete all'interno del vostro account quizzes nella barra search qua sopra o qua sotto se io vado a cercare literature e provo già una pletora di quiz già pronti sia per quanto riguarda per esempio la letteratura sia per quanto riguarda la grammatica quindi ci sono veramente tanti tanti contenuti che appunto hanno a che fare con la lingua francese e quindi non è detto che dobbiate essere voi per forza a creare il quiz il più delle volte sarà già pronto e sarà fatto anche molto 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 bene quindi questo è quello che vi consiglio date subito un'occhiata alla sezione search su generali allora andiamo a selezionare il francese perché la piattaforma è spagnola ma abbiamo la possibilità di lavorare direttamente in francese quindi on s'inscrì ok inscrivetevi con google accepte e continue benissimo si selezioniamo il nostro account lo useremo in ambito educativo insegniamo dove insegniamo io l'issè e come on se anche in questo caso la parte di iscrizione è veramente molto semplice decorrerai tous les secrets non merci ok le profilette è actualisé très bien come vedete anche qua abbiamo la parte di gamification ma possiamo creare con geniali infografiche presentazioni immagini interattive di tutto di più quindi gamification creé a questo punto come vedete nella colonna di sinistra c'è anche escape game quindi qua ho tutta una serie di escape game già pronti ok e adesso ne apriamo uno giusto per vedere e poi dopo andremo a crearne uno noi come funziona utilizzessi un modello ok viene caricato e quindi qua che cosa devo fare molto semplicemente è come prima che c'erano le slide no ogni slide in questo caso ha degli elementi interattivi che possono rimandare a una slide oppure a un'altra quindi quando io per esempio vado a premere questo tasto questo simbolino qua che vuol dire il dito che tocca interactività questo se ci clicco a che cosa rimanda action page suivante quindi vengo rimandato alla pagina seguente quindi di fatto è una presentazione dove all'interno ci sono degli elementi interattivi queste sono delle immagini ok ai quali io attribuisco un'interattività e questa interattività mi permette per esempio di andare a creare la mia escape room anche in questo caso qualcuno ha rubato ok questo qua è una casella di testo io la posso cambiare come come voglio quindi qua io posso se voglio tradurre questa questa escape room che è già presente e semplicemente controllare che per esempio da questa da questa stanza cliccando appunto su tasto room 1 si vada nella slide successiva dove nella room 1 appunto viene fatta la domanda e io attribuisco ad ogni casella di testo dove appunto inserisco la risposta corretta e inserisco la risposta sbagliata se io vado a vedere dove mi porta l'interattività della risposta corretta mi porta alla pagina seguente oppure io posso andare a selezionare appunto il fatto che qua vedete you have completed this room oppure you lost a museum piece quindi un bravo hai fatto bene oppure no hai sbagliato proviamo proviamo a fare un qualcosa di molto simile ma partendo da zero giusto perché vi voglio far capire come funzioni il consiglio che vi do comunque è quando vi farò vedere la piattaforma escape che è appunto francese e che si basa tendenzialmente su dei dei genial entrate dentro se possibile guardate come funzionino andando ad analizzare la struttura quello vi farà proprio capire come funziona effettivamente un general proviamo a fare una cosa molto 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 semplice quindi non mi interessa una una cosa già fatta e prendo la presentazione ok ci dice il suo modello va benissimo grazie mille e prendiamo una bianca ok ajouti benissimo supponiamo che io voglia inserire all'interno di questa presentazione una immagine vado su image e vado qua dove mi dice depositivos image vado a selezionare sul mio computer un dipinto veramente molto celebre questo dipinto che io ora vado ad inserire nella slide alcuni di voi l'avranno visto e stravisto all'interno di tantissimi libri di letteratura vedete io l'immagine la posso inserire qua posso creare una velocissima attività con questo geniale tra questi personaggi è presente Emil Zola ok quindi questo lo sapevamo credo quasi tutti andiamo a inserire del testo quindi nel mio titolo troviamo un titolo sì due ok forse è meglio che metterò qua e questo qui lo posso cancellare con la tastiera ok qui Emil Zola parmi ok ok lo allarghiamo ok benissimo mettiamolo centrato un po' più su ok in che maniera riesco a creare un'attività in cui i ragazzi mi dicono ok ho trovato Emil Zola devo tornare su page ok ed andare a creare e ora lo facciamo in maniera super veloce una slide che sarà per esempio nel testo ci mettiamo bravo nelle immagini scusate nelle risorse noi possiamo inserire delle icone vedete abbiamo tante cose a disposizione per esempio la coppa ok messa benissimo bravo ok e ritorno su page ne creiamo un'altra ripeto è veramente una cosa super basica per farvi capire come possa funzionare in questa invece inseriamo come testo no e no e se ancora ok war plus mettiamo qualcosa tipo questo pollice che poi magari andiamo a rovesciare di 180 gradi no ok quindi qua mettiamo anche un elemento interattivo come un bottone ok quindi un bottone che ci permetta di tornare indietro ok questo qui a che cosa lo dovremo collegare lo dovremo collegare come interattività a che cosa ad una page alle alla page quindi questo ci riporterà alla slide della nostra immagine so got it fatto ritorniamo su page ora all'interno del nostro del nostro della nostra immagine dobbiamo inserire gli elementi interattivi a questo punto andiamo su ancora una volta element interactive scendiamo in fondo e troviamo zone invisibile questo strumento qua che ha una specie di tendina vedete invisibile ha questo questa sorta di copertina io posso dire guarda che quando cliccano qui devi rinviare a e avete già capito che se io faccio piccolo piccolo questo e lo porto sopra il volto di Emile Zola e poi clicco su questo ditino che abbiamo imparato vuol dire interattività quindi io da questo dirò vai alla pagina bravo sovgarder per tutti per tutti per tutti gli altri io che cosa farò creerò una zona invisibile da mettere appunto sopra al volto e negli altri casi dirò alle alla page no proviamo proviamo a fare la stessa cosa duplicando questo elemento con il tasto copie che vedete qua su in alto di fianco alle forbici in alto a sinistra copie bene colle dobbiamo consentire il fatto di poter incollare ok ne abbiamo creato uno in più e lo portiamo sopra manè ne incolliamo un altro e lo portiamo sopra astruc mi sono mi sono stampato anche noi perché non volevo far figuraggi ne facciamo un altro e lo portiamo sopra il buono renoir e ne facciamo un altro con il copie e incolla e lo mettiamo un po' più lontano da Zola altro ancora e lo mettiamo sopra Basia e incolliamo l'ultimo per selezionarlo sul volto di Monet bene a questo punto l'esperienza è veramente super basica va bene ma quello che mi interessa farvi capire è il funzionamento se io vado su pre lo posso pubblicare va bene poi semmai lo cancellerò dopo mettiamo trover emil zola ok pre a questo punto se io vado su partagere ho il link da copiare e se vado ad aprire in un'altra finestra il mio genia lì guardate cosa succede se io vado a cliccare vedete che divento una manino appena passo sul volto vado a cliccare su manee mi dirà no torniamo indietro sarà questo no proviamo a cliccare su zola ma il diciamo il funzionamento di base e tenete conto che ci vorrebbero tre incontri da qualche ora ciascuno per padroneggiare veramente tutto il discorso dell'escape room ma il funzionamento di base per genia lì è questo quello che vi consiglio di fare è di andare sul sito di escape l'indirizzo è scape punto enepe punto fr qua di fatto la loro home page è un escape room quindi vedrete tante cose che però sono eh di fatto dei link dentro eh entrando poi dentro il sito cliccate ovunque vogliate e andrete praticamente all'interno del sito nella sezione le trésor c'è la possibilità di scegliere delle escape room già pronte che si basano essenzialmente su geniali che si possono filtrare per disciplina e che si possono filtrare anche per livello lycée collège eh decuverte evaluazione quello che volete indifferente eh vi faccio vedere una cosa al volo perché poi lasciamo lo spazio alle domande eh ce n'è una su eh vediamo veron eccolo qua enquête a veron français lettres che è fatta veramente bene accès au geniali ok qua vi chiede di attivare il suono perché io posso poi aggiungere il suono al geniali posso aggiungere tanti elementi interattivi ma di fatto il funzionamento è quello che vi ho fatto vedere eh cliccando per esempio sul personaggio qua andiamo avanti eh entriamo nella grotta dei capuleti quale sarà la grotta dei capuleti quella con la e no forse con la c clicco qua e trovo clicco sul velo e trovo per esempio un ehm un puzzle quindi con con le lettere dove io posso andare a trovare le parole come funziona seleziono romac eccolo qua clicco e trasceno quindi dentro un geniali posso trovare anche attività come questa senza la quale per esempio insomma io non posso poi andare avanti quindi devo per forza risolvere quello per andare avanti e così via ma il funzionamento è quello che vi ho fatto vedere se andate qua e vedete su il tasto non c'è in tutti eh reuse this generally voi potete cliccare su quel tasto quel generally diventerà di fatto vostro perché andrà nel vostro account e qua potrete capire come è stato strutturato il generally quindi quello di guardare all'interno delle varie escape room è probabilmente il modo migliore vedete di andare poi a capire come funzionino effettivamente il sito di escape è una piccola miniera d'oro quindi sono convinto che sarà utilissimo per tutti voi ripeto letteratura ma anche civiltà clil c'è veramente tantissime cose e ci sono già le risorse pronte allora mi sono fermato in tempo Oriana se ci sono le domande grazie intanto Alessandro per il tuo intervento sono arrivati tantissimi complimenti veramente appunto una presentazione molto molto interessante allora io innanzitutto vorrei rassicurare tutti quelli che ci hanno scritto perché magari hanno avuto problemi di connessione e ovviamente la registrazione dell'evento sarà disponibile sul canale youtube quindi non preoccupatevi se avete perso diciamo dei pezzetti potete andarle a recuperare lì e anche le slide che vi ha mostrato Alessandro saranno invece disponibili nella sezione archivio webinar del nostro sito quindi per quelle bisogna andare appunto appositamente sul sito passo invece alle domande diciamo più di contenuto allora dunque ci chiedono le domande che si inseriscono su quizzes sono interattive i ragazzi possono selezionarle in diretta e vedere la propria risposta come in caut assolutamente sì abbiamo visto proprio come esempio infatti molte appunto probabilmente hanno poi avuto anche risposta nel corso della presentazione però appunto le riepilogo nel caso in cui qualcuno si fosse perso il momento diciamo di spiegazione ci chiedono poi se quizis funziona solo in modalità sincrona è possibile condividerlo come compito da svolgere come ripasso autovalutazione autonomamente assolutamente sì nella nella selezione praticamente quando avete finito di fare di preparare il vostro quiz o l'avete già trovato pronto troverete la scritta start live quiz che è quella che vi permette di far vedere il quiz appunto insieme in classe oppure assign homework che vi consente di condividere il link e i ragazzi sono in grado di farlo a casa ma la cosa interessante è proprio questa il fatto che voi comunque riceverete i dati di quello che è stato fatto a casa e quindi potrete anche poi ricorreggerli insieme il giorno dopo o riguardarli per un ripasso ecco mi sa che hai già risposto alla domanda appunto successiva che era proprio qualcuno che ci chiedeva se gli esercizi sono registrati e quindi se possono essere consultati magari in un momento successivo per mettere dei voti quindi ecco la risposta appunto c'è assolutamente se sono i records ok perfetto poi ci chiedono facendo un accesso come studente i ragazzi hanno la possibilità di creare quiziz o geniali in un contesto di flipped classroom o lavoro digitale di gruppo allora io sono sincero con quiziz non ho previsto per i ragazzi l'accesso autonomo c'è la possibilità di importare direttamente tutta la classe da classroom magari e fare diciamo tutto il lavoro di assegnazione alla classe anche in maniera se volete un po' più veloce non è necessario non è fondamentale avete visto che si può entrare anche semplicemente con il codice e questo insomma vi solleva anche da tante piccole problematiche legate alla privacy dall'altra parte vi dico che geniali sicuramente i ragazzi lo possono usare perché è una piattaforma compatibile con il GDPR è spagnola quindi insomma è una piattaforma europea e quindi possono possono entrare tenete conto che negli account free ci sono delle piccole limitazioni ma di fatto insomma si riesce a fare per i ragazzi veramente tante cose bene qui invece chiedono avevo preparato un esercizio su quiz e condiviso su classroom ma i ragazzi non lo hanno mai ricevuto dove avrò sbagliato non so bisognerebbe proprio vedere il caso specifico nel senso che se io vado su assign homework e creo praticamente il il compito viene creato un link e quel link poi è identico al link che condividete nel momento in cui lo fate live quindi diventa difficile capire dove possa essere stato il problema l'unica cosa che mi viene in mente è che c'è una deadline quindi c'è un tempo limite che è l'insegnante che che va a scegliere di norma è un giorno l'unico problema potrebbe essere stato che io magari il lunedì vado a creare il quiz lo assegno alla classe i ragazzi però lo fanno il mercoledì e allora il link non funziona più perché è scaduto in buona sostanza quindi l'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere quella questa deadline ok allora le domande sono finite ne ho recuperato un'ultimissima dalla chat di youtube chiedevano se l'iscrizione a CAUT è gratuita sì 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 l'iscrizione a CAUT è assolutamente gratuita abbiamo visto che i link di CAUT presenti all'interno per esempio di Insta France non richiederebbero neanche il login quindi si può tranquillamente lanciare e chiedere ai ragazzi di entrare senza nessun login l'iscrizione se volete poi andare ad approfondire anche su CAUT CAUT.com lo ricordo è l'indirizzo giusto l'iscrizione è assolutamente gratuita ovviamente anche lì ci sono dei piani a pagamento ma ripeto con la versione gratuita anche lì si riescono a realizzare quiz anche come abbiamo fatto vedere in uno scorso webinar perfetto direi che abbiamo concluso in tempissimo quindi complimenti anche per il tempismo io ringrazio innanzitutto Alessandro e anche tutti voi ovviamente per la partecipazione oggi e al prossimo appuntamento grazie mille alla prossima grazie a tutti